Benvenuti a tutti, siamo al Nokia World Abu Dhabi 2013 e siamo in compagnia del prodotto che non è stato anticipato nel corso dei giorni precedenti di questo evento. Parliamo di Lumia 1320, il nuovo phablet, è uno smartphone con display da 6 pollici, in particolare in quanto è posizionato in un segmento di mercato che tipicamente non vede i prodotti di questa diagonale. Nokia ha annunciato un prezzo di 339 dollari per il mercato nordamericano, il prodotto è al debutto nel mercato nordamericano nel corso delle prossime settimane, lo vedremo in commercio in Italia a partire presumibilmente dall'inizio del prossimo anno ad un prezzo che possiamo stimare essere a nostro avviso compreso tra i 319 e i 349 euro tasse incluse. Cosa di particolare di questo prodotto? Riprende le caratteristiche tecniche di Lumia 1520, quindi il fratello maggiore presentato quest'oggi, con la particolarità ovviamente di una costruzione un po' più a risparmio, proprio per poter far fronte ad un prezzo particolarmente aggressivo. Abbiamo quindi uno schermo da 6 pollici di diagonale, una risoluzione non full HD, quindi una risoluzione 720p, all'interno troviamo un SOC Qualcomm della famiglia 400, quindi un dual core, di fatto una stessa architettura che noi troviamo nei modelli Lumia della famiglia 900. Abbiamo una dotazione di memoria inferiore, pari a 8 giga e 1 giga di memoria di sistema. E il guscio esterno è particolare, un po' di carbonato e ha questa struttura per cui possiamo facilmente aprire e volendo anche sostituire il guscio, anche se al momento Nokia non ha annunciato nelle parti di ricambio. Dobbiamo fare questa operazione anche per accedere allo slot della scheda SIM, in quanto non è ad accesso esterno. Guardiamo i lati, i classici pulsanti presenti su qualsiasi terminale Nokia della famiglia Lumia, nella parte superiore il jack per le cuffie, questo lato è completamente liscio, infatti non troviamo lo slot per la scheda memoria e nella parte inferiore il connettore USB per la ricarica. Cosa dire di questo prodotto? La prima impressione d'uso è piuttosto interessante, ovviamente è un prodotto piuttosto grande, chi vi sta parlando ha le mani piccole e quindi non ha grande facilità nell'interagire con uno schermo così grande, ma dobbiamo dire che la visibilità è molto buona e anche l'aggiornamento del sistema operativo che permette di avere le tre tile in verticale sicuramente viene premiato da una dimensione così ampia dello schermo. Per quanto riguarda le restanti caratteristiche tecniche non abbiamo nulla di particolare da segnalare, è un prodotto che ha un ottimo responsive al pari del resto di tutti gli altri terminali della famiglia Lumia, nonostante sia basato su un'architettura soltanto di tipo dual core e crediamo che con questo prezzo possa essere un prodotto particolarmente interessante per quella fascia di utenza che ricerca un prodotto sicuramente avanzato, potendo scendere ad alcuni compromessi in termini di scelte di materiali di costruzione anche per una maggiore durevolezza e vuole un prezzo di acquisto particolarmente aggressivo. Da ultimo ricordiamo la fotocamera che non è Zeiss come invece è presente in altri terminali della famiglia Lumia, ha una capacità di 5 megapixel, è presente un flash soltanto e quindi è una soluzione di compromesso sempre per far fronte ad un prezzo che ripetiamo e consideriamo essere particolarmente aggressivo. Il resto della dotazione è la stessa che ritroviamo negli altri terminali quindi anche in questo caso a dispetto della fotocamera sulle 5 megapixel troviamo Nokia Camera con i vari controlli avanzati, perdon mi è scappata una foto, i vari controlli avanzati al pari di quelli che abbiamo imparato a conoscere inizialmente con Lumia 1020. Bene, è tutto da Paolo Corsini per Hardware Upgrade qui dal Nokia World di Abu Dhabi.